Musica Salve a tutti amici di Minecraft Se voi vi ricordate Nello scorso episodio Sono andato in esplorazione E ho trovato il deserto Ora la mia intenzione qual è? Mi è andato giustamente Mi scompassano la città Ti ricordi che avevo piazzato quella cesta? Ragazzi E' scomparsa una cesta Comunque Intanto vi auguro Un felice anno nuovo a tutti Questo giustamente è il mio primo video Nel 2014 Quindi Spolliciate in su Spolliciate in su Comunque Chi non l'avesse capito Ci sono pure io Perché Io ci sono sempre C'è mio fratello qui E' il vice lol Accanto E' Un po' a calogia Boh Mi devo liberare un pochettino Vi dico di mettere Mi piace in un'altra pagina Che mi sembra Si chiama Radio Junior Bella Ed è una radio che inizierò a fare Sabato prossimo Però è una radio web Si intende Comunque i dati verranno caricati Quindi ragazzi In questo episodio Come vi ripeto a dire Mi farò Mi sono preso l'ultima volta Se voi vi ricordate Le coordinate Per prendere la sabbia E inizia giustamente Finalmente A fare I vetri Della nostra casa Le carote Li devo posare State tranquilli Mi sta arrivando pure Il Cosa Dal disco Del computer Si spera No mi sta arrivando Mi ho detto Che ho fatto Quindi Nostro padre ci ha detto Che sta arrivando Quindi io ora Faccio un bel TP E mi teletrasporto Praticamente Lì A Prendere La sabbia Il meno Porca valetta Si No 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 Aspetta Si Lo devi fare Ragazzi Forse mi sono salvato per culo No Forse sei morto di nuovo Perché No 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 Non sei morto Si è buggato Soltanto in mondo Ma che cavolo Dai Hai segnato male I meno I meno Ragazzi Mi sono scordato I meno Allora Faccio riprendere il fiato Al mio pubblico Quindi Queste Ragazzi Praticamente Noi che Lo uso spesso Questo TP Quindi mi ci devo Anche Pure io Abituare Adesso Dobbiamo riuscire A fare Cioè Di aver riuscire a capire Verso dove Farla partire La cosa Cioè Per farla Per far arrivare una linea Per far arrivare qui al deserto Mi suona il telefono Fare arrivare una linea Per arrivare al deserto Quale linea? Quindi in pratica Tipo un buco Che ti porta qua al deserto Mi suona il telefono Ti suona il telefono Avevamo capito Che ti suona il telefono Per questo Parlavo veloce Vado a rispondere Mi fratello sta andando a rispondere ragazzi Ah intanto giustamente vi ricordo di commentare E lasciare un pollice In su Ehm 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 Un'altra cosa Chi si vuole iscrivere al mio canale Lo può fare tranquillamente Beh Se volete potete anche commentare E dirmi anche se Vogliono fare tipo uno scambio di Di iscritti Cioè loro si iscrivono Lo si iscrivono al mio canale Basta che mi chiedo a me Di iscriversi al Moro Io lo faccio Molto volentieri Quindi ragazzi State tranquilli Che io non me la prendo a male Cercherò giustamente Di accontentare a tutti Iscrivendomi Eppure ai vostri canali Messaggiando con voi Perché ci sta Appunto messaggiando anche con voi In contatto con i fan Quindi E' la cosa più figa Per me Per me il 2014 Comunque è iniziato Molto male Quindi Idem Peggio a me Si peggio Si mio fratello Peggio Io ho rotto la macchina Quindi Che ci va Peggio Quindi A me in poche parole Giorno 28 Mi è andata questa La macchina Mi è rotto In poche parole La pompa Dell'acqua Mizzica Mi sono scordato Di assegnarmi Le coordinate Per tornare a casa Così ne capita Mizzica ragazzi Vabbè Passerai la notte qua Insomma Ma io devo scaricare Il chunk Eh Non lo so Vincere Io sono senza spada C'è Ostia C'è io ancora Con la spada Di cioccolato Sono Ragazzi Sto cercando Anche di Scaricare Il chunk Dal villaggio Perché ci sono I villagers Che poi Mi serviranno E Io nel frattempo Sto caricando Come minimo 10 chunk E E vediamo Di scaricare Tutti i chunk Andandoci A rifugiare Da qualche parte E Vediamo 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 Nel frattempo Guardate che bug Bello Che c'è qui Basta rompere questo E canone Che bello Ehm Wow Ehm Vincere Tu non hai cambiato Nessuna impostazione Giusto No Meglio così Anzi Quando ho giocato Con il mio mondo Ho messo in difficile E io ho la spada Di cioccolato Ti ricordo Quindi ragazzi Momentaneamente Aspetterò qui Quindi A tra poco Il tempo Che passa La notte A dopo Allora Ragazzi Rieccoci Di uno qui Io mi sono fatto Diciamo Una posizione Più Sicura E strategica Sopra A 15 blocchi Di sabbia Quindi così I mostri Non possono Prendermi Nel frattempo Con mio fratello Viciarollo Abbiamo notato Quella cosa Che è tanto strana Non è Io ora aspetto E qua No Oltre che voglio capire Quanti blocchi Di cannesone Di cannesone Sono Allora Aspettiamo Il sole che Che sale giù Io ho la spada Di cioccolato Vi ripeto Comunque Andiamo Quindi penso Che ormai I mostri Non mi faranno Più niente Lì Stavo volando Lì là Volando Allora Vediamo qua Allora Sono Una Due Tre Quattro Cinque Se blocchi Sono anti Se blocchi Ciao I blocchi di canne Oddio Non Non l'ho mai visto Ah Tu non puoi fare parkour No Non l'ho mai visto Se blocchi Di cose Qua c'è un Un gripper I creeper Faccio un ragno Faccio un ragno Un ragno Un ragno Creeper Mori Fai Che fai Salta Salterlo P Uh 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 Ma sono Se gli dai Un Un massico Polpo Un massico Polpo Un colpo Bello Un colpo Si va bene Eh Comunque ragazzi Abbiamo pure Ehm Diciamo Ho visto Ci siamo andate a prendere Anche le coordinate Per ritornare di nuovo a casa Come? Tramite l'episodio Tramite l'episodio Perché Tramite l'episodio Che fa Non ce la siamo Fatte la foto Tramite la foto Lo siamo andate a prendere No Perché io Ero Sopra In cucina Non ho visto niente Ecco Il mio fratello E io Che rompo Un'altra pala Mio fratello Si fuma le canne E poco fa Ehi Sei canne Non è vero Mi sono scordato Di impiantare le cose Ma normale amministrazione Ragazzi Eh c'è Volevo dire Sì ma non vedo Gli ignomi Quindi ragazzi Raccogliono questa sabbia E ritorniamo di nuovo A casa Spero tanto Di non morire Come Come stava per succedere Sì Ma dopo dove Mi ha fatto soppare E di sotto La pietra Del sana Interessante Invece mi faceva Sponare dentro Il budget Questo Aspettavo 63 Oh 64 Ragazzi A posto 4 stacche Di 64 Vediamo qua I villaggi Dove sono Se non sono morti Allora qua Ce n'è uno Che è sotterrato Liberiamolo No Qua c'è Un altro porco cieco Qua ci sono Gli altri porci Ciechi Oh ma In questo villaggio Sono sai Anzi Facciamo una cosa Ce l'ho di legno Ok Così i villaggi Ci possono arrivare Tu dici Oh Grazie Dico Ma mi potete ringraziare Mi cade a testa Figurati Ciao Grazie Ecco che È un villager Mi saluto Un altro torre Un tempio Un altro tempio Un tempio Un lag Aspetta Che lag Ma perché questo lag Sta caricando Perché è un tempio No ti immagini che c'è Un coso Ecco la foresta oscura E ci stavo caricando Io speravo Più che dato Nel mezzo del cammino Di nostra vita Ma noi Quando siamo passati La voglia di studiare fu più Ma noi quando siamo passati Non c'era il tempio Oh mio dio E' pure sottorrata No aspetta Ecco davanti E' qua Ta 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 Ma 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 Allora Tagliamo questo Andiamo giù E vediamo che cosa c'è Oh Potenza in tedesca Dove lo metterai? Oh Oro Diamante e armature per cavallo Bello Bello Qua Altro oro E cibo in scatola Noll E poi Sabbia Io qua Arenaria 5 in scatola E' Trestissimissimissimissimissimissimissimissima Qua sotto ci sarà una caverna All'osca Allora la petona ce la manteniamo Che cosa buttevo qua? Eh scusa perché non Non prendevi la TNT? No io sono troppo pericoloso Con la TNT Allora ragazzi Allora teletrasportiamoci di nuovo a casa Eh se non sbaglio le coordinate 7, 6, 1 7, 8 9, 2, 6 Oh ragazzi Finalmente siamo arrivati a casa Non è bene Fizio no Non è bene Perfetto Possiamo fare queste cose Non faceva ridere Allora Arenaria nevigata Arenaria nevigata Piccolo Ricordo Ragazzi Proprio così? Oh Nell'altro cosa vuole Arma d'un genferno Mettiamo questo libro qui Eh va bene ragazzi Oh io ho ancora oro Inizio cacao Ho fatto il ferro Oro Ferro Bello bello Ci manca la mirra La c'è il ferro La c'è il ferro Perché non lo stacchi di tutto con qua Ah vero Eh ragazzi Mi ero leggermente confuso Comunque ragazzi 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 Per E' arrivata Questo Episodio di tutto Sui pollici Un gran bacione da me E mio fratello Vi ce l'ho Commentate Iscrivetevi E a più presto E buon anno Del 2012 Aspettate che 2012 2014 Perché non mi devi fare dire Le cose sensate Allora Mio fratello Deve dire L'ultima minchiata Non è vero Io ti ho corretto Quindi Buon anno a tutti Ciao a tutti ragazzi E ci vediamo al prossimo episodio Di minecraft Ciao a tutti